vedi che si scivola da morire qua sotto pulito perché la prima staccata più lunga c'è molto muro dentro destra 3 vai subito si sinistra 3 meno si scivola destra 3 meno che ti avevo detto Tomas? accendi accendi che accendo questo zorbo accendo che minghi accendo tutte cose a tortare